bando per l'assegnazione di 22 borse di studio inserita nella home page del sito dell'ambasciata d'italia è stata pubblicata la nuova edizione del bando edu italia per il 2021 il concorso prevede l'assegnazione di 22 borse di studio per gli studenti che supereranno l'esame ap di lingua e cultura italiana le borse di studio includono fino a cinque settimane di soggiorno in italia presso una delle istituzioni associate edu italia la frequenza di un corso di lingua italiana il materiale didattico necessario e la partecipazione ad attività extracurricolari la scadenza per l'iscrizione al bando è il 21 maggio 2021 per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata a edu italia sul sito dell'ambasciata d'italia di washington buona fortuna ciao per ulteriori informazioni vai sul sito italiani all'estero punto tv